Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in a 1 rallentamenti per perdita di carico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. Prudenza inoltre per nebbia banchi tra Rioveggio e Aglio. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali su gran parte della Toscana, l'elenco completo sui nostri canali social. Uno sguardo alle statali sono in corso le operazioni di ripristino e riapertura in sicurezza della statale 12 della Betone e del Brennero a seguito della caduta massi dei giorni scorsi. La riapertura in sicurezza è prevista entro Natale. Ci troviamo nel comune di Borgo a Mozzano. Per le statali segnaliamo inoltre i cantieri aperti sul raccordo Siena-Firenze tra il km 32 e il km 37 nelle due direzioni con chiussura della corsia di sorpasso ancora una volta nei due sensi di marcia. Buonasera, Sintoscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.